For South Italian Army a Faraa Balabaluc Adesso vivo a Eirat, proprio la città Il messaggio che devo mandare è chiedo al Rai News 1 che il mio messaggio loro devono mandare il mio messaggio al governo italiano perché io ho lavorato, non solo io abbiamo lavorato tutti gli interpreti tutti anche i contractor quelli che hanno lavorato per voi per gli italiani in questi giorni la situazione diventa molto più grave per noi specialmente per gli interpreti adesso due settimane che io non ho uscito mai proprio della mia casa se no sono dentro a casa e non posso uscire gli italiani sono arrivati fino a 2-3 km a nord sud dalla città Eirat quindi la situazione è molto grave noi siamo molto preoccupati per la nostra sicurezza e per la nostra vita anche per la vita della nostra famiglia quindi a questo momento che sto mandando questo messaggio io proprio lo sento la voce di colpi quindi sono sicuro che oggi o domani talibani vengono a prendermi vengono proprio davanti a casa mia e me lo porta via questo non è una scherza questo è un messaggio vero quindi lo chiedo a Italian government a governo italiano che loro cosa fanno per noi se vogliono fare qualcosa per noi e questo è il tempo che devono fare altrimenti molto probabilmente noi perdiamo la vita a questo messaggio lo mando alla governo italiano quindi la situazione è molto grave per noi grazie